È già una fortuna riuscire a vederle perché in Italia non è che sono molto diffuse. Quei bambini in Provence hanno preso la via dell'estero. Comunque, grazie ai nostri amici e ai sponsor, abbiamo l'opportunità di vederle fotografate. Questo è un intero nella categoria delle X-Camp Classic, cioè le macchine che qua da nuove sono state costruite a scolto il collezionismo. Qualcun è un intero attenzione di Vapari, come un 400 esemplari che non è in gru, come un'altra vuole di una rinvolare lungo la provinzione. Tutto il mondo è un'opportunità di Vapari, come un'opportunità di Vapari. Vapari, 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 Vapari.